Nel nome di Allah, il Compassionevole e il Misericordioso. Glorifica Allah ciò che è nei Cieli e nella Terra. Egli è l'eccesso e il saggio. Appartiene a Lui la sovranità dei Cieli e della Terra. Da vita e da morte, Egli è l'Onnipotente. Egli è il primo e l'ultimo, il Paese e l'Occulto. Egli è l'Onnisciente. Egli è colui che in sei giorni ha creato i Cieli e la Terra, poi si è innalzato sul trono. Egli conosce ciò che penetra nella Terra e ciò che ne esce. Quel che scende dal cielo è quel che vi ascende. Egli è con voi, ovunque voi siate. Allah osserva ciò che fate. Appartiene a Lui la sovranità dei Cieli e della Terra. Ad Allah tutte le cose saranno ricondotte. Fa penetrare la notte nel giorno ed il giorno nella notte. E conosce perfettamente quei che nascondono i petti. Credete in Allah e nel suo messaggero e date una parte di ciò di cui Allah vi ha fatto vicari. Per coloro che credono e saranno generosi, ci sarà ricompensa grande. Perché mai non credete in Allah, nonostante che il messaggero vi esorti a credere nel vostro Signore? Egli ha accettato il vostro patto. Rispettatelo, se siete credenti. Egli è colui che ha fatto scendere su suo servo segni evidenti, per trarvi dalle tenebre alla luce. In verità Allah è dolce e misericordioso nei vostri confronti.